Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in diretta con l'informazione di Udinews TV. Apriamo con un collegamento live in esterna perché in questi minuti in comune a Udine si sta discutendo il bilancio dell'amministrazione. È collegata per noi in diretta Luciana Idelfonso. A te Luciana. Sì, grazie Valentina. Buongiorno a te ai nostri telespettatori. Detto bene, ci troviamo in comune a Udine dove è da poco iniziato il Consiglio Comunale. Tanti punti all'ordine del giorno a partire da alcune interrogazioni proposte da Bertossi ma prima ancora di un minuto di raccoglimento fatto dall'intera giunta in ricordo di Giuseppe Zamberletti recentemente scomparso e papà della protezione civile. Tra gli ordini del punto anche lo stadio Friuli, alcune procedure amministrative relative proprio allo stadio che proprio in discussione in questo momento in seguito a un'interpellanza posta dal consigliere Liano a cui sta rispondendo l'assessore Pizzoccaro. Non è tutto qui però si parlerà molto di bilancio in sala. È prevista bagarre soprattutto per quanto riguarda l'aumento dei rifiuti nella città di Udine. Allora abbiamo fatto il punto sulla questione ma anche sugli altri elementi importanti all'interno del bilancio con l'assessore Francesca Laudicina. Sentiamola. E da poco ha cominciato il consiglio comunale qui a Udine. Siamo in compagnia dell'assessore al bilancio Francesca Laudicina proprio per parlare di questo punto che probabilmente animerà a lungo questa seduta. Quali i punti salienti? Allora i punti salienti della seduta innanzitutto prima di approvare il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione ci sarà sicuramente uno scontro dato che è necessario approvare le tarife. Immagino che ci sarà comunque un confronto animato più che altro sulla Tari che è l'imposta che riguarda la tarifa, che riguarda i rifiuti perché comunque diciamo che dal punto di vista dell'addizionale IRPEF Udine ha mantenuto inalterata l'aliquota, lo 0,2 malgrado la legge finanziaria permettesse ai comuni di comunque utilizzare la leva fiscale ha deciso di non utilizzarla e ha mantenuto inalterata, anzi se non addirittura ridotta per una particolare categoria e anzi per due particolari categorie, l'IMU. Abbiamo ridotto l'IMU per i capannoni industriali sfitti, cioè tutti gli immobili di categoria D perché ci rendiamo conto che comunque un immobile di questo tipo anche per un utilizzo diverso comporta degli investimenti notevoli e quindi sono sicuramente tra le categorie i proprietari di questo tipo di immobili più svantaggiate e quindi questa l'abbiamo abbattuta di un punto. E poi abbiamo allineato l'aliquota IMU comunque diminuendola riguardo alle pertinenze per diciamo di quegli immobili che vengono dati incomodato da un genitore a un figlio quindi abbiamo allineato l'aliquota in modo che anche diventi più semplice fare i pagamenti, fare i versamenti. Abbiamo azzerrato del tutto la tasi per gli immobili cosiddetti di lusso ma contemporaneamente abbiamo incrementato l'IMU per questo tipo di immobili però abbiamo facilitato il contribuente perché invece che versare due F24 diversi verso un'unica imposta con un unico F24 quindi diventa anche molto più semplice. Dal punto di vista della Tari ritengo appunto che oggi ci sarà un po' di discussione perché comunque la Tari ha subito un piccolissimo incremento cioè un 4% medio di incremento però ovviamente era da anni che rimaneva sempre ferma però purtroppo è stata una scelta dovuta al fatto che comunque si è incrementato di tanto il costo del conferimento in discarica e quindi naturalmente visto che la tarifa deve coprire il costo integrale al 100% c'è stato un aumento appunto del 4% che però posso dire che per un immobile di 100 metri quadri abitato da 3 persone significa che praticamente la tarifa si incrementerà di circa 7-8 euro. C'è qualche altro punto sul bilancio che merita una nota secondo lei? Ma secondo me la nota, un'altra nota, diciamo una nota buona riguarda gli investimenti c'è stata una, a vista anche la possibilità diciamo dal punto di vista appunto normativo di poter incrementare non il debito ma di applicare l'avanzo c'è stata la possibilità quindi di ampliare lo spretto degli investimenti e quindi naturalmente il piano delle opere pubbliche per il 2019 chiaramente comprende per una questione anche di corretta amministrazione opere che sono state iniziate dall'amministrazione precedente ma che comunque che sono diciamo in linea con le linee di mandato del nuovo sindaco più tutta una serie di opere nuove che riguardano l'edilizia scolastica moltissimi investimenti dal punto di vista del miglioramento per la sicurezza del pedone della viabilità, marciapiedi, buche e cose di questo genere poi ci sono gli investimenti collegati al rifacimento dell'involco esterno del castello e qui ringraziamo comunque diciamo il privato che ci aiuterà che è l'industria Daniele perché insomma si presume che il costo è stato stimato in circa 900 mila euro più tutta un'altra serie di investimenti che sono legati diciamo sempre alla sicurezza quindi c'è anche nel bilancio del 2019 di nuovo vengono appostati appunto i soldini per le guardie giurate e poi tutta un'altra serie di investimenti diciamo per il patrimonio riguardante il mantenimento del patrimonio il miglioramento dei parchi, dei giardini un investimento di 700 mila euro per il parco del Cormor e un investimento di un milione e due se non mi sbaglio anche per la diciamo sistemazione per la manutenzione delle palamostre Per un totale circa di quanto? Allora il totale degli investimenti mi pare se non mi sbaglio che sono di circa 16 milioni di euro se non mi ricordo esattamente E allora avete sentito alcuni rincari che purtroppo insomma i cittadini udinesi dovranno subire a partire appunto dalla tassa sui rifiuti però anche buone notizie per la città dove in arrivo sono fondi importanti da destinare a tantissime opere cittadine nel frattempo il botta e risposta sta continuando in aula e con questo ti restituisco la linea a te Grazie Luciana Andiamo avanti con la cronaca con un'operazione della polizia ferroviaria di Gorizia che il 30 gennaio scorso ha rintracciato una decina di cittadini extracomunitari entrati clandestinamente in Italia stavano procedendo a piedi verso la stazione costeggiando la linea ferroviaria incuranti del grave rischio per la loro incolumità infatti il treno viaggiatore in arrivo ha dovuto attivare il dispositivo acustico e rallentare fino a fermarsi evitando così il peggio il gruppo comprendeva stranieri di nazionalità algerina, siriana e irachena fra cui anche due minori Controlli antidroga All'istituto tecnico Zanon di Udine quest'oggi intorno alle 10 i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Udine della sezione operativa insieme alle unità cinofile di Padova hanno fatto ingresso a scuola sono state controllate due aule, due stanze dei servizi igienici non è stata trovata sostanza stupefacente né addosso ai ragazzi, né ai loro zaini né abbandonata a terra, nei bagno, nei cestini i controlli sono stati richiesti dalla diligenza scolastica e rientrano negli accordi tra arma dei carabinieri e ministero abbiamo controllato delle classi, bagni, corridoi, non abbiamo trovato nulla ma abbiamo in previsione altre operazioni ha spiegato al termine dei controlli il capitano Ilaria Genoni che ha coordinato le attività sul posto le scuole concordano con noi in queste iniziative ha detto si tratta della prima che effettuiamo quest'anno in città in autonomia in altri casi siamo intervenuti insieme alle altre forze di polizia con la cronaca rimaniamo a Udine perché sabato in piazzale 26 luglio la squadra mobile ha assistito a una manovra azzardata da parte di un'autovettura che si stava immettendo sul controviale di Viale Venezia la tensione è stata attirata non solo dalla manovra un movimento, una brusca frenata effettuata mediante l'utilizzo del freno a mano ma anche dalla colluttazione dei due occupanti subito dopo la manovra i due operatori si sono avvicinati all'autovettura hanno chiesto di identificare i due giovani e uno dei due, subito riconosciuto, ha cercato di allontanarsi velocemente poi c'è stato il controllo, addosso aveva un coltello a serramanico con una lama di 15 cm e poi la questura gli uomini della questura hanno verificato il perché di quella situazione la vittima che era alla guida, un giovane italiano era stato adescato infatti dal coetaneo tramite un'applicazione social al fine di consumare un rapporto sessuale tuttavia l'uomo aveva realizzato di non essere in presenza del giovane era figurato delle immagini inviate in precedenza alle rimostranze il ragazzo pretendeva comunque di essere pagato 150 euro minacciandolo anche con il coltello arrivati in prossimità di Viale Venezia nel momento in cui l'estorsore si è reso conto che si stavano dirigendo verso la questura ha tirato il freno a mano e ha iniziato a litigare con l'italiano poi sono intervenuti i poliziotti ed è stato arrestato andiamo avanti ed è stato annunciato il programma degli eventi per la festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso il comune punta al gemellaggio con Verona sfruttando la storia romantica di Lucina e Luigi Eminente invece la festa di San Valentino che quest'anno volete corollare anche con un gemellaggio un tentativo di gemellaggio con Verona beh quest'anno gli amici di Borgo Pracchiuso hanno organizzato tutta una serie di eventi in occasione della festa di San Valentino uno di questi eventi sarà imperniato appunto sempre sul tema dell'amore e sulla storia di Romeo e Giulietta e quindi da una rievocazione di quella che è la storia di Romeo e Giulietta friulano ossia di Lucina Savognana e di Luigi da Porto si stanno creando una serie di manifestazioni legate a questo tema qua sia nei giorni 14, 15 e 16 di febbraio quindi in occasione di San Valentino sia al giorno 26 di febbraio in piazza Venerio ci sarà una rievocazione storica perché proprio in base alla ricostruzione il fattidico incontro fra Lucina e Luigi si colloca in quella data lì il 26 di febbraio del 1511 proprio in piazza Venerio dove c'era il palazzo dei Savognano adesso andiamo alla Dacia Arena per sentire tutte le novità in casa Udinese insieme a Jacopo Romeo a te Jacopo sì, buon pomeriggio buon pomeriggio a te giornata di riposo per l'Udinese quest'oggi dopo il pareggio contro la Fiorentina un pareggio che magari non ha mosso tantissimo la classifica ma era importante tornare a fare almeno un punto dopo due sconfitte consecutive e soprattutto dimostrare di essersi ripresi e comportarsi come aveva chiesto anche Nicola alla vigilia da squadra vera dopo il 4-0 di Genova ebbene sotto questo aspetto l'Udinese ha pienamente centrato l'obiettivo anzi addirittura è tornata a casa dopo il match di ieri con un pizzico di rimpianto perché forse i punti avrebbero meritato qualcosa in più della Fiorentina nonostante alcuni interventi importanti decisivi di musso penso per esempio al tiro di De Poel penso a due occasioni per Pussetto ma al netto di questo è un risultato che è buono soprattutto per il morale e per la consapevolezza della squadra dopo un 4-0 magari potenzialmente duro a digerire c'è stata la ripresa la ripresa è arrivata è arrivata anche nel gioco e soprattutto nella prestazione che è stata nuovamente molto solida infatti la Fiorentina ha colpito soltanto con un tiro dalla distanza si è dovuto accontentare di quello per rimettere in piedi la partita e soprattutto la gara giocata contro i Viola deve essere un modo per far sì che i giocatori capiscano questo gruppo capisca e metabolizzi il fatto di poter mettere in difficoltà anche formazioni sulla carta più quotate e questo è un fattore molto importante per risalire la classifica e soprattutto per avvicinarsi ad un'altra gara complicata che mette di fronte il calendario perché, scusami, domenica prossima si andrà a giocare contro il Torino in trasferta e anche lì bisognerà continuare a dimostrare che il trend è positivo mettere in campo quella voglia quella prestazione che contro la Fiorentina hanno portato i ragazzi di Nicola a fornire davvero una bella prova da domani si inizierà a lavorare in tal senso per preparare la gara dello Stato Olimpico di Torino con l'allenamento al pomeriggio dopodiché nella giornata di mercoledì doppia seduta nell'allenamento di domani ovviamente ma che era ancora Kevin Lasagna impegnato nello stagio a Coverciano con la Nazionale stagio che è iniziato già da quest'oggi e che vede coinvolto l'attaccante Bianconero che da questa esperienza in azzurro potrà trarre nuova linfa per mettersi alle spalle il problema alla spalla accusato nelle scorse settimane e soprattutto per mettere a disposizione tutte quelle che sono le qualità che tanto apprezza il commissario tecnico Mancini anche nella quotidianità per Davide Nicola e per l'Udinese a te Grazie Jacopo fra pochissimo apriremo una finestra sul Festival di Sanremo un appuntamento quotidiano che ci terrà compagnia durante questi giorni ma prima di fermarci a cogliere il nostro ospite Gianpaolo Polesini diamo uno sguardo a quello che è successo in Italia e nel mondo Almeno sette persone sono rimaste uccise ed altre nove ferite nell'esplosione di una potente autobomba a Mogadiscio in Somalia vicino a un centro commerciale nessuna rivendicazione ma la modalità dell'attentato fa pensare che sia opera del gruppo di estremisti islamici al Shabab Francia Spagna Gran Bretagna Svezia Austria Germania e Olanda riconoscono Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela perché indica elezioni presidenziali per Mosca invece riconoscere Guaidó e un'intromissione negli affari interni del paese I progetti per le schede e le buste sarebbero già prenotati le tipografie sono allertate il Ministero dell'Interno e al Lavoro in segreto Macron ha preparato la sua risposta all'offensiva dei gilet gialli un referendum nazionale il 26 maggio lo stesso giorno dell'Europè secondo fonti vicine al capo dello Stato citate da Le Giornade du Dimanche Macron è deciso a metà marzo si concluderà all'iter del grande dibattito nazionale da lui voluto due mesi dopo i francesi si pronunceranno su temi come il funzionamento delle istituzioni il numero dei parlamentari la partecipazione popolare alla vita politica il diritto di indire referendum e di iniziativa popolare ci fermiamo solo qualche istante ma torniamo fra pochissimo per il nuovo appuntamento dedicato al festival di Sanremo insieme a Gianpaolo Polesini a tra pochissimo eccoci qua di nuovo in diretta con questo nuovo appuntamento quotidiano dedicato al festival di Sanremo Gianpaolo Polesini è qui vicino a me benvenuto ben ritrovato si rinnova questo momento dedicato allo spettacolo che ci fa molto piacere perché è bello parlare anche ogni tanto con leggerezza di musica e di intrattenimento festival di Sanremo che comincia domani se ne parla ormai da mesi il rinnovo di Claudio Baglioni insomma uno spettacolo che conosciamo tutti molto bene visti gli anni i tanti anni delle edizioni però c'è sempre tanta curiosità comunque si rimane un mistero Sanremo alla fine no? perché rimane sempre uguale non cambia quasi mai cambiano i conduttori cambiano ovviamente i cantanti però lo schema è sempre quello da 69 anni quindi uno dice beh si sarà usurato un po' invece gli ascolti sono sempre molto alti e quindi è un mistero come la gente che si stufa facilmente delle cose perché oggi il mondo della televisione del web sono mondi velocissimi dove è anche quello della canzone tra l'altro perché c'è una canzone che che viene mandata in radio voglio dire dura pochissimo due o tre settimane massimo un mese poi sparisce quindi questo devo dire che è un po' un mistero ecco però bisogna anche dire che Sanremo ha conservato con l'arrivo di X Factor una sua identità classica e quindi piace alle persone classiche diciamo i giovani penso che lo guardino molto poco anche se fra la lista dei concorrenti in gara io sì non sono giovane ovviamente però alcuni non li conosco quindi questo sta a significare che effettivamente alcuni cantautori alcuni autori alcuni cantanti scelti sono stati scelti proprio perché parlino al pubblico dei più giovani andiamo però ascoltare le parole di Claudio Baglioni oggi c'è stata la conferenza di presentazione di Sanremo quindi la vigilia momento clou in cui c'è tutta una situazione di tensione in vista della gara di domani c'è stata questa conferenza stampa allora andiamo a sentire che cosa ha detto Claudio Baglioni grazie buongiorno a tutti grazie bentrovati bentornati allora sono qua per la seconda volta ecco no così finì questa finì così finì la mia conferenza stampa ultima e così vorrei ricominciare la prima per Teresa De Santis che arriva al timone non c'è nessun sottinteso in questo e la richiesta era sempre quella di comunque di e io ho detto se lo fate fare a me chiaramente non ci sarà tutta la parte di costume di spettacolo che solitamente almeno nelle ultime edizioni con conduttori più classici e più appartenenti allo status del televisivo ci sarebbe stata quindi questo sarà la continuazione il nostro festival è un festival che si basa sulle canzoni nella parte di intrattenimento io penso che vincerà la leggerezza speriamo che vinca l'ironia perché ci serve anche questo però sicuramente non è un festival politico nella accezione insomma alla quale si intendeva questo ne potete stare certi almeno che non accadano a mia insaputa e come ho detto ieri ogni tanto a Claudio succedono delle cose a sua insaputa ecco le salite questa volta ci sono state un'altra volta anzi qualcuna addirittura anche più aspara e più difficile da scalare però che cosa mi anima è quello che poi è anche il lavoro quotidiano da un bel po' di giorni in qua era passata da poco Pasqua quando ho ricevuto questa proposta di tornare appunto a Sanremo e fare ancora un'edizione del festival e di circondarmi della squadra tranne qualche cambiamento e arricchimento che l'anno scorso c'era e di pensare a questo festival come se noi fossimo dei servitori del festival di metterci al suo servizio di cercare di curarlo come una creatura una creatura che è fragile perché esprime si basa sull'arte più piccola e più povera della musica in generale che è la forma della canzone però la stella polare è sempre stata quella che già è contenuta nello statuto io che sono fedele alla costituzione di Sanremo continuerò a pensare che questo è il festival della canzone italiana e in tutto questo credo che questo primo articolo sia raccolto tutto il lavoro che stiamo facendo ecco dai ritmi di Baglioni già si capisce come sarà questo Sanremo parlare di povertà mi sembra un po' fuori luogo visto che uno dei veri motivi per cui si fa Sanremo è proprio i soldi è brutto da dire ma sì sono investimenti una questione solamente economica solo per il vile denaro insomma c'è un investimento abbastanza alto da quanto si legge poi non credo che la Rai faccia le cose per perdere 17 milioni di euro e un possibile incasso di 26 quindi insomma tutto torna alla fine ecco quindi una questione economica sicuramente un investimento da parte della Rai ma anche questa retorica della canzone italiana che continua a perpetuarsi abbiamo visto anche insomma nella lista dei cantanti ci sono dei cantanti molto tradizionali che tutti conoscono Patti Bravo Anna Tattangelo Nino D'Angelo Il Volo Loredana Bertè insomma cantanti tradizionali perché cantano in maniera tradizionale come il volo ma anche cantanti che appartengono anche a qualche generazione passata e poi invece qualcuno un po' più sperimentale e anche molti giovani ci sono parecchi giovani questo bisogna danni e neato a Baglioni il punto è che ormai tutto viene triturato in un girmi mediatico quasi immediatamente nel senso che poi alla fine del festival tutti cantano le canzoni di Sanremo per una settimana dieci giorni massimo poi cominciano un po' le radio a maggio è un post bombardamento tutto silenzio non si sente più niente ed è successo un po' questo anche l'anno scorso con Ermalmetta e Fabrizio Moro che erano i vincitori della scorsa edizione succede ogni anno alla fine questo insomma quindi il festival di Sanremo vive per una settimana e va avanti per un altro mese ecco ma ormai quali sono le canzoni che ultimamente ci ha regalato che poi sono rimaste nella storia come una volta ma credo negli anni 90 anni 80 poi non sono rimaste più tutti ricordano i Giallis pensa a te purtroppo è vero io ricordo anche come sta Freddy Georgia dai tiriamoci su di morale sì ma insomma anche Elisa ha vinto voglio dire un festival di Sanremo però basta chiedere a qualunque persona chi ha vinto il festival di Sanremo dell'anno scorso già non se lo ricordano Metta e Moro è chiaro noi tu io insomma bene o male ce la ce la giochiamo a Sanremo ma chi non chi non lo segue o lo segue solo così in maniera casalinga se lo dimentica che cosa ne pensi dei co-conduttori Virginia Raffaele e Claudio Bisio beh insomma sono due grandi professionisti su questo non c'è dubbio Claudio tra l'altro è anche un caro amico oltretutto ed è una persona che comunque sa stare su qualunque palcoscenico è un bravo teatrante ecco diciamo che viene dal teatro ricordo un suo spettacolo nel 1987 o 88 i Comedians allo Zanon di Udine ecco quindi lui nasce dalle tavole dalle ruvide tavole e sono quelli proprio gli attori che alla fine poi sanno stare anche in televisione gli altri sono destinati a sparire Virginia Raffaele è un mostro cioè oltre a essere bellissima ma è un mostro di bravura quindi direi che meglio di così non si poteva chiedere a Baglioni insomma almeno sono sparite le vallette oddio a me dispiace perché erano tutte molto belle ovviamente però delle volte anche un po' inutili cioè questa storia della valletta bella non dico stupida perché basta con questa storia delle vallette belle stupide sono tutte ragazze molto in gamba però insomma erano quasi non so delle statuine così insomma sì un super lei la donna super lettile ecco sì insomma adesso non tornare alla solita problemina da un oggetto non c'entra niente però qualcuno che faccia qualcosa forse era il caso di inventarselo ecco e negli ultimi anni è stato effettivamente così perché poi c'è stata anche la Letizietto insomma ci sono state tante attrici che sono arrivate sul palco di Sanremo un'ultima nota riguardo al festival che ci sarà che vedremo alcuni sono delusi dal fatto che i super ospiti saranno tutti italiani sì ecco Sanremo era l'unico momento in cui ci potevano essere degli ospiti ricordiamo tutti no Madonna e via così ma poi insomma anche Hugh Grant insomma anche grandi attori hollywoodiani hanno detto che quest'anno o anche gli altri anni insomma non avrebbero mai speso 300-400 mila euro per portare un attore americano a bere il caffè come fece con Paolo Bonolis se non sbaglio e quindi è una scelta così nazional-popolare tra l'altro questa parola che usava Pippo Baudo altro grande mattatore del festival ne presentò 13 credo è stata tirata fuori proprio quest'anno da Baglioni direi anche basta con nazional-popolare no? è una parola usurata e non è un festival popolare Sanremo no è un festival popolare però dobbiamo smetterla sempre con gli stereotipi insomma ecco questo dire che è un festival nazional-popolare lo diceva Pippo Baudo prima della guerra per cui adesso credo che bisogna la televisione credo abbia bisogno di coraggio che in realtà non ha perché si ripropone come la peperonata quando la mangi al mattino no? che ti si ripropone tutto il giorno un po' così la televisione italiana abbiamo bisogno di cose nuove come sul web come nella vita e invece la Rai soprattutto Mediaset va beh insomma fa delle cose molto terra terra ma la Rai dovrebbe rischiare la televisione statale chiamiamo così ma rischiate un po' fate qualcosa di nuovo innovare un po' innovare un pochino insomma ragazzi siamo ancora a Miss Italia adesso non è più su Rai 1 ma no non è più da un po' per te Miss Italia è finita da quanto per quanti anni l'abbiamo sentita 50 e come Neck canta questa canzone dirige il maestro Peppe Vessicchio a voi Neck ma il cerimoniale si sa che è importante le persone si riconoscono nel cerimoniale domani bisogna innovare bisogna innovare vedremo se la Rai accoglierà questo appello domani ci lanciamo nei pronostici iniziamo a vedere quali sono le canzoni e proviamo a dare un'occhiata a chi potrebbero essere quelli papabili premi della critica ci sono tanti premi a Sanremo grazie a Gianpaolo Polesini grazie a te grazie a voi noi ci fermiamo qui e ritorniamo alle ore 19 grazie per averci seguito a più tardi